Dopo la cassa integrazione straordinaria per 310 lavoratori a causa della mancata acquisizione di alcune commesse, desta preoccupazione la situazione dello stabilimento veronese di Elcograf, l'azienda grafica nata dalla fusione delle attività di stampa della Pozzoni e della Mondadori Printing a Verona. Già nei mesi precedenti ai lavoratori di questa ditta era stato chiesto di rinunciare a una quota del loro salario integrativo, proprio come sacrificio per ridare competitività all'azienda. Ma dopo le richieste di tagli del personale e ultimo tassello la cassa integrazione straordinaria, la paura della chiusura di questo stabilimento storico per la città di Verona si fa davvero sentire. Proprio in questi giorni sono iniziati i primi incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Obiettivo comune salvare questo polo produttivo e i 480 posti di lavoro. Non è che oggi siamo nella situazione in cui 480 persone magari domani perdono il posto di lavoro. È un po' più complessa nel senso che a un certo punto, e la faccio molto corte per ovvi motivi, che a un certo punto l'azienda ha chiesto un'ulteriore riduzione del costo del lavoro rispetto al sito di Verona senza peraltro aprire nessuna visione strategica rispetto al mantenimento del sito stesso. L'azienda deve comunque innanzitutto dare un segnale per una prospettiva di questo sito. Non accetteremo di discutere di qualsiasi cosa se prima non c'è una volontà da parte del aziendale del mantenimento di questo sito. Questo è a prescindere. Aspettiamo comunque un piano industriale da parte di un imprenditore che è da tempo che lo chiediamo e mai ce l'ha presentato. La nostra paura è che questo imprenditore si risposti nelle sue zone, quindi in Lombardia, e quindi abbandoni il sito di Verona. Questa è la nostra preoccupazione principale. Queste 480 persone alla fine diventerebbero disoccupate, quindi si lascia questo posto? Beh, certo. Queste 480 persone sarebbero disoccupate e quindi sarebbe anche un problema sociale sul territorio. Quindi abbiamo richiesto anche alla politica che sia presente, perché in questo momento sulla provincia di Verona è totalmente assente. Noi abbiamo paura che nasca un altro centro commerciale, perché Verona si sta spostando sui centri commerciali.